Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare sulla rete autostradaria regionale, possibili disagi per presenza di veicolo fermo o in avaria tra Calenzano e 1 variante in direzione nord. In FIPRI per lavori un chilometro di coda tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze, possibili disagi sullo stesso tratto anche in carreggiata opposta. Inoltre la chiusura dello svincolo di Empoli Est in uscita nelle due provenienze per importante manifestazione sportiva. Per il traffico urbano di Firenze tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura notturna sul viadotto dell'Indiano e i nuovi allacci in via Cosimo il Vecchio e via dei Cattani. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!